Salve a tutti amici di Amazon, siamo qui in un nuovo unboxing di copri sedili per auto dato che ne ho già recensito un articolo dello stesso marchio che sto ancora testando soltanto che l'articolo precedente era con due copri sedili e questo qua è formato da cinque quindi avete i tre posteriori e i due anteriori che adesso andremo ad aprire andiamo a vedere che cosa c'è nella confezione allora, confezione che si apre da qui dov'è la cerniera? la cerniera è qua, eccola qui cerniera, dobbiamo aprire questi qua sono grigi il fatto che la mia auto è grigia quindi andremo ad avere adesso non vado ad aprirli tutti un'altra volta perché penso siano identici quindi abbiamo sempre i nostri sedili ben ripiegati quindi abbiamo il sedile, eccolo qua ok, quindi questo qua è dove ci si siede e poi questo qua è tutto lo schienale quindi andrà messo in questo modo andrà installato in questo modo con la scritta upgrade cars ecco qua in questo modo quindi tutti questi laccetti servono per andare poi a legarlo bene al sedile a tirarlo con i gancetti che sono in dotazione che adesso vi mostro ok, perché penso siano uguali sia uguale identico all'altro e quindi chiudiamo ripieghiamo l'urbal in ordine quindi abbiamo anteriore abbiamo questo qua che sono i probabilmente sono i tre quelli qua questi qua sono i tre posteriori perdonatemi se si vede poco beh, questi sono i tre posteriori vediamo se riesco a distenderveli bene ok, i tre posteriori a quelli qua uno, due, tre ok sono sempre tutti quanti i gacci per legarli ok mettiamolo via poi qua abbiamo il cosa abbiamo qua? un altro ancora c'è qualcosa che non mi convince c'è troppa roba qua o forse probabilmente sono uno a uno ah, forse andrà messo in questo modo perdonatemi sono tre andrà messo in questo modo quindi questi sono dove vi appoggiate col sedere e con la schiena e questo qua è il mezzo quindi sono tre quindi sono uno due qua avete le cinque cuffie quindi per il poggiatesta uno, due, tre, quattro, cinque i gancetti come vi ho detto ok per poterli tirare al meglio qua vedete che avete un pratico ok è un pratico foglio illustrativo che vi insegnerà come installare al meglio tutti i copri sedili come potete vedere se avevo ragione io sono tre vedete sono tre uno, due, tre soltanto che uno è tutto è tutto grigio forse dovrebbe essere questo è quello qua sì, questo qua è quello che starà nel mezzo che è tutto grigio ecco per tornare a fare pan-pan con no, sto dicendo questo è quello anteriore anteriore quindi due anteriori la sono i tre posteriori ecco bene non c'è altro da aggiungere vi aspetto comunque qui sotto con la recensione iscritta non mancherà anche la seconda parte del video dove andrò a installare effettivamente tutti i posti andrò a installare i sedili i copri sedili e vi andrò a dire se è stato semplice è complicato se sono di buona qualità se vanno bene se non van bene se si tolgono se ci siedi sopra se si sfilano ecco tutto quello che c'è da sapere ecco a un prossimo video e una prossima recensione dal vostro Thomas di Amazon ciao a tutti eccoci qua alla fine del del montaggio non so se si vede aspettate che tengo anche il flash ok questi sono i copri sedili ok questo qua è questo qua come si presenta purtroppo non ripeto non mi convincono perché appunto a parte che non sono adatti per i sedili come vi ho fatto vedere per quelli sportivi che hanno appunto la rientranza ok e poi vedete che sono molto larghi sono molto larghi ok comunque lo riescono a stare dove stanno ho cercato di ligarli come meglio potevo io ho cercato di ligarli in questo modo ma probabilmente sicuramente si toglieranno perché questi gancetti sono sono di scarsissima qualità ovvero che piano piano col tempo si allenteranno e si apriranno totalmente cioè come posso farvi capire questo anello qua si aprirà dal tutto perché con lo sforzo piano piano si allargerà finché si toglierà comunque così come stanno va bene ho messo anche il cappuccio va anche bene qua abbiamo la strap da aprire quando avete inserito il braccio il poggiatesta comunque diciamo che come alternativa a o preservare la pulizia dei sedili quindi mettendo i copri sedili voi andando a lavoro si sporcano li togliete li sbattete e li dovete reinstallare oppure se avete dei sedili vecchi perché avete la macchina vecchia allora a questo punto potete tenerli su in alternativa ai sedili che magari esteticamente sono danneggiati o brutti ecco quindi diciamo che fondamentale sono i gancetti davanti se no questo qua vi si muove tutto dietro dietro li ho li ho legati un pochino però come si dice li ho legati un pochino vedete li ho legati sotto là ok non so se si vede li ho legati sotto vedete il gancetto da sotto comunque di là non l'ho mica fatto perché ho detto non serve perché bene o male diciamo che l'importante è che questo è ben tirato perché è stretto per dire che i sedili sono troppo larghi e l'importante è che la seduta sia abbastanza che la seduta sia fissata ecco sicuro che questo questo test questa installazione vi sia piaciuta e dovete quindi pensare a voi se sono se fanno al caso vostro o meno ciao a tutti